Applausi Avevamo un sogno Ci abbiamo messo l'anima per raggiungerlo Passioni Dedizioni Grinta Cuore Si dice che il minimo battito d'ali di una farfalla Sia in grado di provocare un uragano Dall'altra parte del mondo Dall'altra parte del mondo Sia in grado di provocare un uragano 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 Grazie a tutti. Il sogno continua.